buono il caffè eh amore stavo pensando sai cosa tu sei per me? no che cosa? ecco sei come una tigranda sarebbe un incrocio fra una tigre e un panda e tu sai cosa sei per me? no non lo so tu invece sei un incrocio tra un coyote e un leone e sarebbe? un coglione tu mi ami